Ok, allora in questa lezione come avevamo concordato, previsto, svolgiamo qualche esercizio di teoria per quanto riguarda la domanda sull'architettura dei calcolatori. Ci sono domande spesso di tipo teorico e in alcuni casi anche di tipo di calcolo per quanto riguarda le memorie, le capacità di memorie, i bassi di sistema e così via. Allora, come ho già fatto per la lezione di ieri, parto dal fondo perché in fondo sono le domande che sono state aggiunte per ultime, quindi magari hanno avuto meno attenzione da parte vostra o già non ci sono eventualmente le soluzioni in giro. Allora, andiamo in ordine partendo dal fondo e vediamo quante domande riusciamo a trattare nell'ora e mezza circa che abbiamo a disposizione. Allora, la domanda numero 23 ci chiede che cosa sono e qual è la funzione dei registri di un CPU, quindi che cosa sono i registri e qual è la funzione dei registri e in particolare a che cosa serve il registro dei flag. Allora, cosa si può rispondere a questa domanda? Quello che potremmo rispondere è che, ad esempio, i registri, che cosa sono e che funzioneranno? Quindi i registri, come innanzitutto, che cosa sono? Sono delle celle di memoria all'interno, che sono poste all'interno della unità operativa della CPU. A che cosa servono, ci chiede? Servono a memorizzare soprattutto i dati su cui la unità metricologica deve lavorare, quindi gli operandi, e i risultati calcolati dalla ALU stessa, idem per la FPU, cioè sia per l'unità metricologica intera sia per l'unità in floating point. Quindi i primi due punti della domanda erano appunto che cosa sono, sono due piccole memorie, qual è la funzione, memorizzano gli operandi che devono essere utilizzati per i calcoli dell'ALU e i risultati della stessa. Ultimo passaggio, la domanda chiedeva ancora a che cosa serve il registro dei flag, quindi lo possiamo aggiungere, il registro dei flag memorizza una serie di bit singoli, e quindi ciascuno dei quali indica un aspetto dell'ultima operazione eseguita dall'ALU. ALU barra FPU, quali aspetti possono essere risultato 0, risultato negativo, overflow, eccetera, eccetera. Confronto uguale, confronto diverso, eccetera. E quindi l'unità metricologica in qualche modo non solo fa l'operazione e memorizza il risultato dell'operazione all'interno di un registro, ma le informazioni su come è andata questa operazione vengono anche memorizzate all'interno di un altro registro che contiene appunto dei flag, cioè dei bit singoli, ciascuno dei quali mi dà un'informazione specifica. Quindi questa potrebbe essere una possibile risposta per la domanda numero 23. Se passiamo alla domanda successiva, alla domanda 22, spiegare brevemente che cos'è il clock di sistema e qual è la sua unità di misura. Ok, quindi il clock di sistema, anche qui proviamo a scrivere una possibile risposta, quindi il clock è un segnale innanzitutto periodico presente all'interno del laboratore che la cui funzione serve a temporizzare le operazioni interne alla CPU, ad esempio. Quindi, ad esempio, ogni operazione del laboratore avviene in corrispondenza di un istante di clock. Questo segnale è caratterizzato da un periodo tipicamente espresso in nanosecondi o da una frequenza, un periodo diciamo così T in nanosecondi o da una frequenza detta appunto frequenza di clock F in, sarà gigahertz tipicamente, no? Un CPU da 8 gigahertz, da 4 gigahertz, eccetera, eccetera. Ovviamente il periodo è uguale a 1 su frequenza e viceversa, no? Come questo è quello che avremmo potuto scrivere nella risposta. È chiaro che, giusto, adesso purtroppo nell'esame non si possono fare dei disegnini, ma quello che si potrebbe immaginare, sto cercando di descrivere un segnale di questo genere, che è un segnale periodico, no? Il cui periodo, l'altì, sarebbe questo intervallo di tempo qui, tra, diciamo, un periodo, che rappresenta un periodo del segnale stesso e ad ogni periodo, diciamo così, che c'è un segnale forte, un istante forte, che potrebbe essere questo, ad esempio, quello in cui il segnale sale, ma poi dipende poi dal singolo calcolatore, e che è l'istante in cui avvengono le operazioni. Quindi, quando, che non so, la CPU deve fare un fetch, un'esecuzione di un'operazione, salvare un risultato in un registro o leggere un dato della memoria, tutte queste operazioni avvengono solo in corrispondenza di questi istanti di clock. Quindi, magari, in questo primo istante viene letta l'istruzione, nel secondo istante viene decodificata l'istruzione, nel terzo viene eseguita e nel quarto viene salvato il risultato. Quindi, questo dà i tempi con cui le varie operazioni all'interno del calcolatore possono avvenire. Ovviamente, se avete dei dubbi o domande, potete sia intervenire, diciamo così, col microfono, sia anche scrivere in chat, io poi cerco di darvi il riscontro. Passiamo alla domanda successiva. Domanda 21. Qual è il numero minimo dei bit di address bus necessario per indirizzare una memoria da 4 MB con un parallelismo di 16 bit? Allora, questo è un tipo di domanda che ragiona sulla capacità della memoria e sulla capacità di indirizzamento dei bus di sistema. Tutte queste domande, alla fine, si basano su un'unica formula. Quindi, si rigira in modi diversi, ma la formula per risolverli è sempre la stessa. In cui, ragioniamo che abbiamo una certa memoria fatta di molte celle, questa è la nostra memoria centrale, parliamo di memoria centrale, quindi memoria RAM, questa memoria è fatta di molte celle e sappiamo che, diciamo così, n celle con un certo numero di bit ciascuna e quindi l'ampiezza della memoria è un certo numero di bit, chiamiamola per il momento M, bit per cella. Quindi abbiamo una memoria che ha un certo numero di celle e ciascuna cella, ovviamente, è composta da un certo numero di bit. Potrebbero essere 16 bit, 32 bit, 64 bit, 128, dipende dal tipo di memoria, chiaramente. E con un certo numero di celle che dipende da quanta memoria ho installato. Questo è un primo dato. Quindi il numero di bit totali sarà ovviamente dato dal numero di celle per la dimensione di una cella di memoria. Quindi sarebbe N per M, no? Se usando gli dati di sopra. Questo è un primo dato. Il secondo dato è che ci sono i bar di sistema, e quindi le celle di memoria hanno un indirizzo, sono indirizzate, indirizzate, attraverso l'address bus. Sul bus degli indirizzi, ovviamente, viaggia un numero intero, che indica, un binario, no? Che indica l'indirizzo della cella stessa. Questo vuol dire che il numero max numero di celle sarà uguale al massimo numero che posso rappresentare sull'address bus. Quindi a 2 elevato alla dimensione dell'address bus. Ok? Quindi se io ho un address bus di 20 bit, potrò indirizzare fino a 2 elevato 20, potrò esprimere, scrivere su questo address bus fino a 2 elevato 20 numeri diversi, e quindi indirizzare fino a 2 elevato 20 celle diverse. Se un bus di address bus, di base degli indirizzi di 30 bit, potrò indirizzare fino a 2 elevato 30 celle diverse. Ok? Questa è una prima informazione che mi lega il numero massimo di celle di memoria. Ok? Qui sotto avevamo il numero di celle effettivamente presenti. Ovviamente non è detto che io abbia installato fisicamente nel mio computer tante celle, quante potenzialmente è possibile installare. Io magari compro un computer che può avere fino a 256 giga di memoria, ma magari ho solamente 16 giga installati. Quindi la quantità installata deve essere ovviamente inferiore alla quantità massima. La quantità massima però è definita e determinata dall'address bus, e quindi poi dalla scheda madre essenzialmente, del calcolatore che uso, su cui sono installati i bus. La seconda relazione è tra la dimensione della cella. La dimensione della cella ovviamente contiene i dati. Contiene il mio dato che voglio leggere, di cui voglio sommare, sottrarre e fare le operazioni. Allora, questo dato che sta nella memoria centrale dovrà essere trasferito alla CPU per potersi elaborato, per poter fare somma, sottrazione, quello che vogliamo, e poi riportato indietro per potersi elaborare i risultati. Questo mi dice che praticamente la dimensione di una cella, di una cella di memoria, normalmente è uguale alla dimensione del database. No, perché quando devo trasferire dei dati dalla memoria alla CPU, questi dati, non gli indirizzi, prima parlavamo degli indirizzi, qui sono i dati, passano attraverso il database. E il database deve avere la capienza, la larghezza sufficiente per poter far passare le singole cella di memoria. Sarebbe stupido avere una cella di memoria 64 bit e poi avere un bus solamente da 16 bit e quindi ogni volta che leggo un dato devo fare quattro trasferimenti diversi perché devo spezzare il dato in quattro. Quindi normalmente, un sistema ben progettato, la dimensione della cella di memoria è uguale alla dimensione del database. Allora, se metto insieme tutto questo, avrò che la quantità di memoria massima di un calcolatore non potrà mai superare il numero di celle massime che posso indirizzare due alla dimensione dell'altra spassa moltiplicate per la dimensione di ciascuna cella che è, abbiamo detto, normalmente la dimensione del database. Questo, diciamo così, ci dà un vincolo massimo. Conoscendo la dimensione del database e la dimensione del database io posso far l'ipotesi che la dimensione del database mi dica anche, mi rappresenti anche la dimensione di una cella di memoria e quindi mi dà la massima capacità possibile di memorizzazione all'interno di un calcolatore. Questo uguale non è una legge. Quindi è possibile che ci siano i sistemi che sono dimensionati in modo diverso ma noi, diciamo così, semplifichiamolo e pensiamo che sia sempre vera questa ugualianza. Quest'altra, invece, quella di sopra, è una legge, nel senso che se io ho 20 bit potrò solamente indirizzare due alle 20 celle diverse e da lì non si scappa. Ovviamente tutta questa espressione qua mi dà un risultato che è espresso in bit numero di bit ok? Quindi se lo voglio in byte se lo voglio in megabyte se lo voglio in gigabyte ovviamente dovrò fare le conversioni opportune quindi devo fare attenzione all'unità di misura no? Perché bit? Perché ovviamente abbiamo scritto qua che il numero di bit totale della memoria è dato dal numero di celle per la dimensione della cella quindi qua abbiamo il numero di celle massimo per la dimensione della cella normale e quindi questa qua è la formula intorno al quale girano questi vari esercizi. Allora, ripartendo da qua che questo è un ragionamento generale nello specifico mi chiedeva l'esercizio 21 qual il numero minimo di bit di address bus necessario per indirizzare una memoria da 4 megabyte con un parallelismo da 16 bit ok? Quindi mi sta dicendo l'address bus devo trovarlo 4 megabyte la quantità massima la quantità di memoria installata 16 bit è il parallelismo della memoria quindi la dimensione di ciascuna cella allora, mettiamo questi dati dentro abbiamo quindi la dimensione della memoria viene detto che è di me lo sono già dimenticato scusate 4 megabyte 4 megabyte e il byte lo indichiamo con la B maiuscola mentre il bit lo indichiamo come B minuscola per non confonderci e poi ci dice che le celle sono da 16 bit ciascuna giusto? il parallelismo di 16 bit il parallelismo della memoria è la dimensione di ciascuna cella della memoria stessa e quindi abbiamo la dimensione di una cella di memoria uguale a 16 bit ok? mettiamo insieme queste due cose e vediamo quante celle di memoria posso indirizzare quindi se la mia memoria è 4 megabyte e ciascuna cella è 16 bit cioè 2 byte 16 bit sono 2 byte ogni byte è fatto da 8 bit quindi io posso dedurre che la quantità di numero esistente di celle nella memoria è 4 megabyte diviso 2 bit se ho 2 4 megabyte in totale e ciascuna cella è fatta di 2 byte allora avrò in totale byte con byte semplifica 4 con 2 diviso 2 mega celle allora cos'è 2 mega celle? 2 mega celle sono 2 per 2 alla 20 mega sono 2 alla 20 quindi sarebbero 2 alla 21 celle 2 alla 21 celle è già la risposta che cerchiamo perché a questo punto per poter indirizzare 2 alla 21 celle diverse mi serve un address bus di dimensione almeno pari a 21 bit con 21 bit riesco a indirizzare 2 alla 21 celle con 22 23 24 bit chiaramente ne potrei indirizzare anche di più però questa è la quantità minima in questo caso quindi devo sempre fare riferimento alla memoria totale ma la memoria il numero quantità di memoria e il numero di celle sono due cose diverse chiaramente perché dipendono dal parallelismo e facciamo sempre attenzione alla differenza tra byte e byte e facciamo le conversioni giuste ok ok se questo va bene passiamo al successivo esercizio numero 20 qual è il ruolo della floating point unit in una CPU questo è abbastanza veloce quindi il ruolo della floating point unit in una CPU quindi la la FPU innanzitutto fa parte dell'unità operativa di una CPU della CPU e diciamo così contiene circuiti logici in grado di svolgere le operazioni aritmetiche innanzitutto quindi sicuramente somma, sottrazione divisione, moltiplicazione e matematiche tipicamente esponenziali radici trigonometriche e poco altro su numeri rappresentati in virgola mobile in floating point tipicamente single o double precision quindi mentre l'unità armiticologica è capace a fare operazioni sui numeri interi tutte le operazioni che coinvolgono numeri reali quindi numeri rappresentati in floating point passano da una unità armiticologica specializzata che si chiama floating point unit uno o più di queste floating point unit quindi hanno come operandi numeri reali e hanno come risultato un numero reale e setteranno dei flag che dipendono dall'operazione tra numeri reali che è stata compiuta passiamo alla domanda successiva domanda 19 data una memoria RAM di dimensione 64 KB e con un'address base da 12 bit si calcoli la dimensione di ogni cella di memoria di nuovo è un problema analogo a quello precedente anche se girato dall'altra parte allora abbiamo scriviamoci i dati una RAM di dimensione 64 KB quindi apriamo una nuova pagina e ci scriviamo che la memoria RAM abbiamo la RAM o no rosso no dai non usiamo il rosso sembra la memoria RAM è 64 KB ok poi abbiamo l'address base sono 12 bit address base uguale 12 bit calcolare la dimensione di ogni cella allora a questo punto se io so che l'address base è da 12 bit vuol dire che avrò 2 alla 12 celle ipotizzando di averle installate tutte ok 2 alla 12 celle quindi la dimensione di ogni cella la dimensione di ogni cella cioè il parallelismo della memoria sarà data dalla dimensione della memoria totale diviso il numero di celle la dimensione della memoria totale sono 64 c'è scritto KB poi mettiamo posto l'identità di misura diviso il numero di celle che è 2 alla 12 allora convertiamo le cose 64 sono conviene lavorare per potenze di 2 64 sono 2 alla sesta 2 2 alla sesta poi un K sono 1024 2 alla 10 e poi attenzione che ho ancora byte mentre invece la dimensione della cella la vorrei esprimere in bit quindi un byte sono 8 bit quindi 2 alla terza bit ok se vogliamo convertire un byte se lo vogliamo esprimere in bit fa 8 sotto abbiamo 2 alla 12 e quindi il risultato 6 sopra abbiamo 2 alla 16 più 3 19 diviso 2 alla 12 19 meno 12 fa 7 ok quindi in questo caso la dimensione della cella sarà di 2 alla 7 bit cioè in questo caso di 128 bit per ciascuna cella di memoria ovviamente sempre se non ho sbagliato i calcoli perché è sempre possibile questi numerini qua fare qualche errore ok per il procedimento si basa sempre sulla solita formula che abbiamo visto prima 2 elevato a bit di indirizzo per dimensione della cella mi dà la memoria totale andiamo avanti domanda numero 18 domanda 18 descrivere come si compone il ciclo macchina di un elaboratore allora il ciclo macchina di un elaboratore scriviamolo qua come testo che è più comprensibile rispetto quanto scrivo a mano quindi il ciclo macchina si compone di un elaboratore si compone di tre fasi che si ripetono all'infinito che sono le fasi di fetch decodifica e di esecuzione nella fase di fetch la cpu legge dalla memoria ram il codice della prossima istruzione della guire poi se vogliamo essere precisi è l'indirizzo della cella di memoria che contiene istruzione è nell'indirizzo nel registro IR cioè instruction register quindi la cpu sa qual è l'indirizzo di memoria della prossima istruzione da eseguire e il codice dell'istruzione viene salvato nel registro scusate non instruction register ho pagliato program counter li ho confusi program counter il codice di istruzione viene salvato nel registro IR cioè instruction register quindi questa qua lo possiamo riassumere dicendo che IR uguale memoria di pc questo è ciò che fa la fase di fetch prende program counter come indirizzo indirizza la memoria usando il bus ovviamente per poter accedere e fare la richiesta legge un dato lo memorizza in instruction register poi c'è la fase decode la fase decodifica è sulla base del contenuto dell'istruzione corrente da eseguire dell'instruction register istruzione da eseguire si definiscono i comandi che l'unità di controllo invierà alla unità operativa quindi dirà l'unità operativa fai una somma fai una sottrazione fai un confronto sposta un dato a zero un registro prendi l'operando dal registro 1 piuttosto che dal registro 2 e così via queste informazioni sono tutte codificate su una serie di segnali di controllo che vanno dall'unità di controllo all'unità operativa e la fase decodifica trasforma la codifica di istruzione che è un codice su più byte in quelli che sono i comandi dettagliati da eseguire eventualmente su più cicli di clock diversi se l'istruzione è complessa la fase di execute è la fase invece nella quale la unità operativa esegue i comandi che sono stati decisi nella fase precedente e quindi dopo che l'unità di controllo ha capito che cosa deve fare ha trasformato in comandi questi comandi sono andati dall'ultima operativa l'unità operativa li esegue ci metterà un ciclo di clock ce ne metterà di più dipende dall'operazione che deve fare e poi alla fine della fase di esecuzione l'istruzione corrente da eseguire è stata eseguita e quindi si può tornare sopra alla prossima fase di fetch della prossima istruzione e questo ciclo si ripete all'infinito viene gestito dall'unità di controllo gestito quindi il ciclo è tutto controllato dall'unità di controllo e ovviamente la fase di esecuzione invece coinvolge l'unità operativa poi la realtà è un pochino più complessa perché magari non è solo l'unità operativa perché viene coinvolta anche la memoria in lettura in scrittura possono essere coinvolti di periferici però dipende dal tipo di istruzione la costante è che i comandi li dà l'unità operativa durante la fase di decodifica ok andiamo avanti domanda 17 spiegare brevemente le funzioni dei registri presenti nell'unità operativa di una CPU questa direi che l'abbiamo già risolta quando abbiamo risposto alla domanda 23 quindi questa la salterei è un duplicato scritto con altre parole la 17 la 16 è un po' sibillina dice spiegare perché i computer attuali sono quasi tutti a 64 bit che cosa significa 64 bit allora anche qua proviamo da una risposta allora il 64 bit rappresenta la dimensione dei dati su cui lavora la CPU quindi di fatto rappresenta la dimensione dei registri la dimensione dell'alu cioè per per la CPU un dato un numero è espresso su 64 bit non su 8 non su 16 non su 5 i suoi dati sono tutti rappresentati sulla certa sempre con la stessa dimensione per semplicità diciamo così di circuitare interna quando io ho una CPU a 64 bit vuol dire che internamente i valori i dati gli int gli interi sono rappresentati in complemento 2 su 64 bit ok e questo ovviamente abbiamo detto prima normalmente è anche uguale al parallelismo della memoria che si porta dietro l'informazione che è uguale alla dimensione del database di fatto questo numero determina il parallelismo di tutte le componenti interne al processore i registri l'unità arimeticologica il bus la memoria e così via è un parametro di progetto potremmo avere dispositivi che lavorano 8 bit dispositivi che lavorano a 16 bit a 32 a 64 anzi in realtà storicamente c'è proprio stata questa evoluzione i primi microprocessori i primi microprocessori lavoravano a 8 bit i primissimi a 4 bit ma questi sono scomparsi in fretta poi si è passato all'epoca dei 16 bit poi all'epoca dei 32 bit adesso la maggior parte dei processori lavora su 64 bit quindi qui abbiamo risposto alla seconda metà della domanda che cosa significa a 64 bit significa che all'interno del calcolatore tutte le componenti principali sono pensate diciamo se vogliamo diciamo così sintetizzare possiamo dire che 64 bit è la dimensione naturale dei dati dei dati trattati e tipicamente anche la dimensione di una variabile di tipo intero nei principali linguaggi di programmazione poi ci sono alcuni linguaggi che ovviamente hanno delle rappresentazioni più ampie perché mi chiede anche la domanda perché la maggior parte dei computer attuali sono 64 bit e questo ovviamente è un parametro di progetto in cui all'aumentare quindi 64 bit è un compromesso tra la capacità di calcolo più bit vuol dire tendenzialmente più potenza di calcolo perché con una singola operazione insomma situazione eccetera riesco a lavorare con dei numeri più grandi se avessi meno bit dovrei fare più operazioni per fare la stessa operazione e il costo realizzativo cioè più bit significa più area di silicio della CPU e memoria e quindi più costi si trova diciamo così un trade off migliore dal punto di vista ingegneristico e al giorno d'oggi normalmente questo trade off per i calcolatori di tipo desktop di tipo portatile ma anche di tipo mobile cellulari questo numero 64 bit è una buona è un buon compromesso 32 o 64 ma ultimamente diciamo così i processori sono tutti costruiti a 64 bit non si esclude che in futuro diciamo così avendo tecnologie magari più veloci e più economiche meno costose la norma diventerà 128 bit anziché 64 bit è chiaro che più andiamo avanti più questa equazione più bit uguale a più potenza perde un po' di significato perché passare da 8 bit a 16 bit ti dà un bel salto perché con 8 bit rappresenti solamente i numeri fino a 255 non rappresenti i numeri reali non puoi farlo non è abbastanza di bit 16 bit puoi già rappresentare numeri fino a 65.000 ma sono comunque poco da 16 a 32 bit passi da 65.000 a 32 bit sono 4 miliardi o 2 miliardi in complemento 2 e allora quali sono le applicazioni in cui mi serve rappresentare un numero maggiore di 60.000 tante quali sono le applicazioni in cui mi serve rappresentare un numero intero maggiore di 2 miliardi poche molte meno e passare da 32 a 64 bit significa poter rappresentare dei numeri fino 64 quindi siamo su 2 alla 60 2 alla 60 sono dunque la 60 sono 10 alla 18 per 16 perché poi c'è ancora 2 alla 4 qua da non dimenticare sono numeri esorbitanti che dal punto di vista numerico servono abbastanza poco il salto da 32 a 64 bit si è fatto soprattutto perché perché si dovevano indirizzare delle memorie sempre più grandi cioè con 32 bit rappresento un numero fino a 4 miliardi e mi può andare bene però 4 miliardi vuol dire che io posso avere al massimo 4 miliardi di celle di memoria 4 giga se io voglio avere più di 4 giga di memoria in un calcolatore questo calcolatore non può avere solo 32 bit perché altrimenti gli manca la possibilità di memorizzare in un registro l'indirizzo di una cellula di memoria che deve essere maggiore di 4 miliardi quindi il salto da 32 a 64 è stato fatto non tanto per i numeri che voglio rappresentare ma per la quantità di memoria che voglio indirizzare il salto da 64 a 128 è un po' meno utile nel senso che non c'è una necessità diciamo così così forte quindi normalmente ultimamente ci si è abbastanza stabilizzati su 64 i calcolatori ce ne sono alcuni che lavorano su 128 bit lo fanno soprattutto per rappresentare dei numeri floating point noi sappiamo che la rappresentazione double usa 64 bit quindi va giusto bene invece la float single precision usa 32 bit al double di 64 ci sono delle rappresentazioni in precisione ancora più alta che usano magari 128 bit allora in quel caso sono calcolatori che sono dedicati magari al calcolo scientifico quindi hanno bisogno di numeri in floating point con una precisione che è enormemente è un range che è enormemente più ampio di quello di un double quindi ovviamente questa domanda perché oggi sono 64 bit dipende molto da oggi se questa stessa domanda fosse stata fatta 10 anni fa 15 anni fa avremmo scritto qua 32 bit anziché 64 come tutti i compromessi progettuali dipendono chiaramente dai fattori di contesto che ci stanno intorno ok illustrare quali sono le principali unità di microprocessore che cos'è la frequenza di clock domanda 15 allora che cos'è la frequenza di clock l'abbiamo già detto perché c'è una domanda sotto in cui abbiamo risposto con dettaglio illustrare quali sono le principali unità del microprocessore ci chiede essenzialmente di ricordare le componenti principali del microprocessore quindi il microprocessore è fatto dalla unità centrale la CPU che a sua volta noi dividiamo in unità di controllo e unità operativa e all'interno dell'unità operativa abbiamo almeno tre blocchi che riconosciamo che ricordiamo che sono i registri che sono l'unità rimenticologica e l'eventuale l'unità rimenticologica in floating point quindi l'FPU uno o più di queste queste sono le parti che compongono la CPU principale l'unità di controllo che ha i suoi indirizzi program count l'instruction register e l'unità operativa la domanda però non ci chiedeva solamente la CPU ma il microprocessore il microprocessore contiene la CPU sicuramente ma può contenere anche tipicamente la memoria cache quella che viene chiamata la memoria cache di primo livello che sta sul chip sullo stesso chip del microprocessore questa tecnicamente è esterna alla CPU la CPU è l'unità di elaborazione ma il microprocessore i microprocessori moderni hanno abbastanza spazio a bordo per metterci altra roba oltre alla CPU e tipicamente quello che è più importante mettere vicino alla CPU è della memoria veloce di lavoro quindi tutto questo crea un microprocessore anche possiamo riassumere la sigla è micro mp microprocessore a volte a bordo c'è anche altri blocchi logici altri periferici a volte alcuni microprocessori tipicamente ci sono magari c'è già a bordo un'interfaccia usb c'è già un'interfaccia di rete se c'è spazio diciamo così sul microprocessore si possono aggiungere il progettista potrà aver messo altre interfacce che non so appunto come dicevo ad esempio di usb di rete l'interfaccia sata per i dischi eccetera eccetera per collegare altre periferiche direttamente alla CPU altrimenti queste periferiche dovranno essere collegate attraverso dei controller che sono sul bus di sistema se c'è spazio sulla CPU si mettono anche questi componenti chiaramente anche qua è un trade off di progetto che tiene conto di dove andrà a finire questa CPU se questa CPU va in uno smartphone allora è meglio minimizzare il numero di componenti e allora cerco dentro il microprocessore di mettere già i componenti che servono se invece andrà in un desktop in cui so già che ci devo mettere una scheda madre ampia che ha spazio per altri chip allora dentro la CPU posso investire magari in maggior cache o maggiore dimensione di registri eccetera maggior numero di unità metricologiche e poi le periferiche le metterò comunque fuori in altri chip che stanno sulla stessa scheda madre tanto lì non ho bisogno di spazio non ho bisogno di miniaturizzare troppo quindi come sempre in funzione della destinazione d'uso di un certo prodotto in questo caso di un microprocessore farò delle scelte in cui privilegerò alcune parti piuttosto che altre all'interno dell'area che ho a disposizione ma dal punto di vista architetturale i componenti sono questi non possono essere altri ok passiamo a cos'è la frequenza di call dicevamo l'abbiamo già visto così come la domanda 4 cosa è il clock è una domanda che sembra abbastanza gettonata o che se vogliamo una scarsa fantasia da parte nostra anche la 14 è uguale a quella che abbiamo fatto giù che è all'inizio di questa registrazione domanda 13 data una memoria RAM di dimensione di 4 megabyte con altre sbagli 16 bits nel calcolo di parallelismo si riportano tutti i passaggi per la soluzione questa è quasi un clone di quella precedente non fatemene una colpa io ho preso quelli che erano comparsi nei temi d'esame quindi in temi d'esame diversi scritti da docenti diversi chiaro che possono ripetersi domande simili 4 megabyte 16 bit ok allora qui mi sta dicendo che la memoria è di 4 megabyte l'address bus che quindi è la dimensione della cella sono 16 bit 16 bit e quindi mi chiede la domanda che viene fatta è qual è il parallelismo della memoria scusate qui ho scritto una stupidaggine l'address bus non è la dimensione della cella ma è la dimensione dell'indirizzo quindi l'address bus 16 bit significa che posso indirizzare fino a 2 alla 16 celle quindi la dimensione della cella sarà data dalla memoria totale diviso numero di celle quindi memoria totale sono 4 megabyte numero di celle sono 2 alla 16 anche qua esplicitiamo esplicitiamolo in bit quindi 4 sono 2 alla seconda mega sono 2 alla 20 e byte sono 2 alla 3 diviso 2 alla 16 cosa abbiamo 25 meno 16 quindi fa 9 se non sbaglio 23 25 25 meno 16 fa 9 sì quindi la dimensione della cella sarà di 2 alla 9 bit ossia dunque 2 alla 9 sono 512 che è una dimensione della cella particolarmente ampia però a volte viene fatta perché io quando leggo una cella di memoria di fatto mi dà già subito l'equivalente di 8 letture a 64 bit in questo caso e allora minimizzo il numero di letture perché anziché leggere un dato per volta leggo direttamente una serie di dati per volta mettendoli tutti nella stessa cella orizzontale quindi riduco il numero di celle e faccio le celle più larghe può esserci però questo è un esercizio di calcolo che prescinde in un certo senso anche da quello che può essere la realtà di una memoria organizzata in questo modo ok allora possiamo passare avanti esercizio 12 descrivere il ruolo di ALU FPU all'interno del processore direi che questa vediamo un attimo se è uguale alla risposta che avevamo già dato questa qua era la risposta che avevamo dato per quanto riguarda l'FPU per quanto riguarda l'ALU la risposta sarebbe esattamente la stessa aggiungendo che parlando invece di numeri interi anziché numeri in floating point quindi se vogliamo possiamo diciamo così arricchire questa risposta dicendo vediamo se sono capace di duplicare questa cosa qua duplica qua esatto e posso dire che a sua volta l'ALU è esattamente la stessa cosa dove dirò che lavora su numeri rappresentati numeri in binario puro o complemento 2 ovviamente non ci sono operazioni matematiche sui numeri interi possono essere operazioni logiche al loro posto quindi quel di AND OR NOT shift confronti eccetera quindi queste due componenti qua entrambe svolgono funzioni aritmetiche o matematiche l'FPU sui numeri floating point l'ALU invece sui numeri interi esercizio numero 11 l'ALU può svolgere la divisione mi domanda Antonino sì 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 la divisione tra numeri interi è la divisione che mi dà il risultato intero e il resto ok se voglio una divisione ad esempio 3 diviso 2 se voglio che 3 diviso 2 faccia 1,5 allora dovrò usare l'FPU che farà lavorare su numeri reali altrimenti 3 diviso 2 mi dirà che il risultato vale 1 con il resto di 1 che è quello che fa ricordate anche in Python c'è il simbolo di percento che fa la divisione intera e mod che mi dà il resto queste sono le divisioni che vengono fatte all'interno del campo dei numeri interi in cui gli operandi sono interi e il risultato intero se invece il risultato fosse un floating point questi numeri prima di dividerli li converto in floating point e poi faccio fare la divisione all'unità in floating point ok allora passiamo all'11 si occupa di avere una dashboard a 20 bit indicare la massima quantità di memoria fisica che è possibile installare nel laboratorio nel caso in cui la singola cella di memoria abbia un'ampiezza di 4 byte allora mi viene detto andiamo in fondo che io ho un address bus da 20 bit scriviamoci il dato address bus uguale 20 bit e ho una cella mi dice di memoria che è da 4 byte la singola cella di memoria ha un'ampiezza 4 byte allora cosa devo calcolare devo calcolare la quantità massima di memoria fisica che è possibile installare allora la quantità massima di memoria abbiamo detto che è data da 2 elevato all'indirizzo quindi all'address bus la dimensione dell'address bus per la dimensione della cella per la dimensione della cella il parallelismo della memoria e quindi in questo caso abbiamo l'altra spazza 20 2 alla 20 la dimensione della cella sono 4 byte quindi sono 4 2 alla seconda byte potrei convertirlo in bit posso lasciarlo in byte è indifferente l'importante è che mi porti dietro l'unità di misura e non mi confonda a questo punto sono 2 alla 22 byte 2 alla 22 byte corrispondono a 4 mega byte 2 alla 20 mi dà mega le 2 alla 2 rimanenti mi danno 4 lasciamo pure il valore in byte oppure se volessimo esprimono in bit sarebbero 8 per 4 32 mega bit ma la quantità di memoria normalmente si esprime in byte come un'unità di misura però dipende da che cosa calcoliamo quindi di nuovo qua abbiamo sempre fatto riferimento a questa nostra formuletta che ci lega il numero di celle il numero di indirizzo e la quantità di memoria domanda 10 descrivere il concetto di gerarchia della memoria nelle moderne architetture di elaborazione questa domanda chiaramente ricordiamoci non sono domande di cui dovete scrivere una pagina o un poema sono domande che richiedono una risposta di poche righe quindi che cosa sono la gerarchia di memoria in un laboratore diciamo così che nel lavoratore abbiamo più memorie con caratteristiche diverse dove abbiamo le memorie più veloci e meno e più costose ma meno capienti più vicine più vicine alla cpu e le memorie via via meno più lente quindi meno veloci e meno costose però e più capienti più lontane dalla cpu quindi ogni memoria man mano che mi allontano dalla cpu posso dare delle tecnologie che mi permettono di avere le capienze di memoria molto più ampie perché hanno dei costi minori e delle densità diciamo impaccamento maggiori e sono più lente pazienza le memorie più vicine alla cpu devono essere invece più veloci perché devono interagire con la cpu che è il componente più veloce di tutto il calcolatore quindi lì vicino devo metterci delle memorie che rispondano in tempo decente altrimenti è inutile avere una cpu velocissima quando poi deve parlare con una memoria più lenta per cui deve aspettare magari un milione di cicli di clock per poter leggere un dato in certo senso e quindi questi tipi di memorie sono nell'ordine possono essere registri che sono la memoria più veloce in assoluto che è addirittura dentro la cpu poi abbiamo le memorie di cache che possono essere tipicamente di livello 1 dentro il microprocessore e quasi sempre c'è anche una cache di livello 2 che è sulla scheda madre ma fuori l'amico processore poi abbiamo la memoria RAM e poi abbiamo la memoria di massa anche qua andando sempre in memoria allo stato solido i dischi SSD che ci sono adesso su barbate di tecnologia flash oppure gli hard disk che sono quelli diciamo così a rotazione che sono ancora i più lenti di tutti ma alla fine sono i meno costosi e i più capienti di tutti quindi un SSD tipicamente hai al massimo 1-2 terabyte per evitare di avere dei prezzi esagerati mentre gli hard disk oramai li fanno da 16 terabyte ovviamente hanno tempi di accesso di millisecondi mentre decine di millisecondi mentre i registri hanno tempi di accesso di frazioni di nanosecondo quindi da nanomilli ci sono 6 ordini di grandezza quindi un milione di volte più lento quindi questi sono esempio delle varie tecnologie che si hanno di memoria e ovviamente i dati sono sempre gli stessi cioè un dato che alla fine è sull'hard disk verrà copiato in memoria RAM prima di essere usato e poi prima di essere copiato nei registri verrà trasferito nelle cache e via via il processore quando va tutto bene la CPU lavora con dei dati che sono nei registri e mentre la CPU lavora nel frattempo prendiamo dei dati dalla RAM e cerchiamo di spostarli nella cache o nei registri in modo che quando la CPU ne avrà bisogno li trovi già lì e quando salvo i dati ho risultato nel registro che prima o poi dovrò salvare memoria e prima o poi a sua volta dovrò salvare su disco ma nel frattempo la CPU è libera di andare avanti senza dover aspettare che una memoria lenta salvi il dato che ha appena calcolato perché non si può fare tutta memoria velocissima il motivo è semplicemente uno il costo se uno non avesse non avesse limiti di costo potrebbe avere la quantità di memoria di vari gigabyte come la RAM sviluppata con la stessa tecnologia delle cache che invece sono cento volte più veloci della RAM però costrano molto di più quindi di fatto economicamente non conviene quindi conviene avere queste varie memorie che lavorano tutte insieme per dare cosiddetta una illusione di avere una memoria grande quasi come l'hard disk ma veloce quasi come i registri la memoria ROM la memoria ROM si diciamo così quando ho scritto RAM paravo di memoria interna quindi la RAM potrebbe anche comprendere la memoria ROM anche se in realtà nel giorno d'oggi la ROM diciamo così coinvolge molto poco l'elaborazione perché viene usata solamente durante l'avvio del calcolatore poi dopo questo si carica il sistema operativo in RAM e lavora direttamente con la RAM la ROM molto spesso è più lenta anche della RAM cioè perché c'è meno è più piccola è più lenta perché ha una funzione più limitata quindi e soprattutto essendo in sola lettura non partecipa davvero in questa gearchia di memoria perché lei non può memorizzare dati nuovi né ricevendoli da disco né salvandoli dalle cache quindi teoricamente sì però ha un ruolo molto minore in certo senso ok per custodio che cosa si intende costo di più produrre allora sì quando parliamo di costo stiamo parlando di area alla fine cioè di dimensione il costo di un microprocessore dipende da due fattori dalla tecnologia con cui è fatto chiaramente tecnologie più recenti costano di più ma soprattutto poi della dimensione del processore stesso del chip non è detto che sia un processore quindi occupa più area diciamo così un singolo un singolo centimetro quadrato possiamo far finta che abbia un costo costante dipende da cosa ci metto in quel centimetro quadrato se in quel centimetro quadrato ci metto una cella di memoria che è più veloce ma è più grande proprio fisicamente come memoria come superficie allora vorrà dire che ci metterò a parità di costo meno celle se ci metto invece delle celle che sono più piccole allora a parità di costo cioè nel senso centimetro quadrato ci staranno più celle di memoria e quindi il costo per bit è variabile quindi nel caso di circuiti integrati il costo è quasi sempre per una determinata tecnologia direttamente proporzionale all'area occupata dal circuito e quindi di fatto se vogliamo scendere un pochino più in dettaglio le memorie RAM sono fatte di un singolo transistor per ogni bit mentre invece i registri sono fatti da una ventina di transistor per ogni bit che vengono continuamente rinfrescati quindi sono più veloci più pronti a rispondere mentre la memoria invece richiede che questo transistor venga trovato attivato indirizzo di riga indirizzo di colonna per poter trovare quel dato e poi poterlo portarlo fuori quindi mi costa è un po' più lento da gestire ma alla fine occupa meno area poi questo si esprime normalmente in termini di dollari per bit quindi in termini di quanti dollari per bit costa una determinata tipologia di memoria ok proviamo ad andare avanti abbiamo ancora un po' di tempo descrivere le funzioni caratteristiche dei bus presenti in un tipico sistema di elaborazione ok allora in un tipico sistema di elaborazione abbiamo tre tipi di bus quindi in un sistema di elaborazione abbiamo tre tipi di bus che sono l'address bus allora fa l'address bus indica viene indica gli indirizzi di memoria da cui leggere o scrivere un dato in realtà non è solo indirizzi di memoria potrebbero anche essere indirizzi di periferici quando devo leggere un dato a un periferico devo leggere il dato dalla tastiera dal mouse dal microfono dalla telecamera allora anche i vari periferici hanno ciascuno un suo indirizzo e chi viene scritto il suo indirizzo del bus ma ovviamente la maggior parte dell'attività invece è attività di lettura scrittura della memoria e quindi si usa per rappresentare gli indirizzi di memoria chi lo definisce questo indirizzo di solito è impostato dall'unità di controllo è impostato dall'unità di controllo quindi è un bus in cui l'unità di controllo scrive l'indirizzo e la parte di memoria o di periferico che corrisponde che possiede quell'indirizzo si attiva si sveglia e dice ok tocca a me lavorare poi abbiamo il database che invece contiene il dato letto il dato letto dalla memoria o il dato da scrivere in memoria dato letto dalla memoria e quando parlo di lettura leggo dalla memoria oppure da un periferico di input e il dato da scrivere in memoria e quando parlo di scrivere scrivo nella memoria a ram oppure scrivo su un periferico di output questo dato può essere scritto impostato diciamo usiamo la stessa parola di prima dalla unità operativa nel caso di scrittura oppure dalla memoria o periferico nel caso nel caso di lettura cioè se il dato viene letto ovviamente me lo scriverà sul bus qualcun altro e io CPU lo ricevo se invece il dato viene scritto è l'unità operativa che ha quel dato che deve essere scritto da qualche parte e infine abbiamo il control bus il bus di controllo cosa fa contiene una serie di segnali di comando che dico attraverso le quali la unità di controllo dice l'operazione ordina l'operazione da fare cioè io metto un indirizzo di memoria sul bus degli indirizzi e poi dovrò dire alla memoria senti a questo indirizzo voglio leggere il dato oppure voglio scriverlo e quindi l'informazione del voglio leggere o voglio scriverlo è un bit che andrà a finire da qualche parte in questo bus di controllo la tempistica leggi adesso quindi anche lì il bus ha un suo clock di sistema che definisce la temporizzazione dell'operazione di trasferimento dati e lo stato delle operazioni cioè se io devo leggere un dato dalla tastiera la tastiera mi dice guarda che non c'è nessun dato nessuno ha premuto nulla e quindi è inutile che tu provi a leggere un'informazione di stato in cui la tastiera mi dice ho dei dati da leggere oppure non ho dei dati da leggere oppure un'informazione di stato in cui ho scritto un dato sulla memoria e la memoria mi dice aspetta non ho ancora finito quindi non mandarmi un dato nuovo perché sto ancora scrivendo quello vecchio oppure ho finito il dato precedente mandami pure quello successivo quindi lo stato dell'operazione eseguita o eventualmente anche condizioni di errore quindi sono una serie di fili in più che 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 a loro volta svolgono queste tre funzioni controllo stato e temporizzazione se c'è una domanda sulla chat che è relativa all'argomento di prima sui costi Antonino ci chiede se il costo è fatto sul wafer sul quale viene prodotta la cpu o anche sulla scheda nella quale vengono stampate le ram il processo produttivo per le cpu e per la ram è essenzialmente lo stesso nel senso che anche la ram noi abbiamo le schedine di memoria ma alla fine le schedine di memoria sono fatte da tanti chip e dentro ciascun chip c'è comunque dentro ciascuno integrato c'è un chip che ha fatto nello stesso modo della cpu solo che magari un chip di memoria tende a essere più piccolo perché ne fa in volumi più grandi e quindi devi mantenere i prezzi più bassi di cpu la singola cpu la vendi magari anche a 4, 500, 800 dollari e allora ti puoi permettere un processo che abbia magari ti generi una cpu di 2 cm quadrati e con una dimensione enorme però il meccanismo di produzione è lo stesso semplicemente poi la cpu te la vendono singola mentre il chip di memoria non ti vendono il chip singolo te lo vendono già venduto sulla schedina di memoria dove sono montati magari 8 oppure 16 più magari un chip di controllo di logica di controllo della memoria ma poi il singolo chip dentro è fatto nello stesso modo quindi il ragionamento vale in generale su tutto poi magari le memorie sono fatte con tecnologie che dicevamo meno di punta che quindi hanno comunque intrinsecamente un costo per unità di superficie minore rispetto magari alla cpu che è fatta con la tecnologia a massima integrazione possibile con più transistor per nanometro quadrato essenzialmente rispetto agli altri ok allora caratteristiche siamo arrivati all'8 domanda 8 abbiamo già risposto cos'è un ALU cos'è un FPU la domanda 7 descrive le caratteristiche del ruolo dei bus anche qua abbiamo già risposto perché è una domanda molto simile a cui abbiamo appena risposto descrive un internet di controllo indicando da quali blocchi è composta e quali sono le loro funzioni ecco questo invece è un dettaglio rispetto alle domande precedenti ci chiede nello specifico l'unità di controllo allora andiamo in fondo prendiamoci una pagina nuova quindi l'unità di controllo lo faccio come disegno anziché come testo per semplicità l'unità di controllo che cosa contiene il suo interno ok allora l'unità di controllo sicuramente sappiamo che è dentro alla alla cpu è una parte della cpu ok quindi è dentro la cpu all'interno della quale ci sarà anche poi l'unità operativa ci saranno anche altre cose quindi ad esempio abbiamo l'unità operativa chi ha le sue cose dentro a noi adesso chiedono cosa ci metti dentro l'unità di controllo allora dentro l'unità di controllo ci metto sicuramente il program counter perché l'unità di controllo deve sapere è l'unico che sa qual è l'istruzione che devo eseguire ci metto sicuramente l'instruction register perché contiene conterrà leggendola dalla memoria l'istruzione da eseguire qui è molto legata alle fasi di esecuzione di un'istruzione l'unità di controllo dopodiché ci metterò dei comandi che vanno all'unità operativa che sono quelli che vengono generati da una logica di decodifica che prende l'instruction register e lo trasforma in comandi quando dicevamo fate di fax decode execute quella di decode prendo questa istruzione e capisco quali comandi eseguire e questa stessa logica andrà a ricevere l'informazione di stato dall'unità operativa tipicamente sono i flag che mi dice guarda questa operazione qua ha dato un risultato uguale a 0 diverso da 0 positivo negativo overflow e sulla base di questo dovrà essere deciso quali sono i comandi successivi da dare e qual è poi l'istruzione successiva da eseguire dopodiché l'unità di controllo deve avere anche adesso è un dettaglio che forse sulle vostre slide non c'era dovrà avere comunque un'interfaccia verso interfaccia verso la memoria quindi verso i bus l'address bus e il data bus e il control bus perché? perché per fare le fasi di fetch devo mandare il program counter all'address bus e ricevere l'istruzione della memoria quindi in qualche modo devo avere la capacità all'unità di controllo di comandare un'operazione di lettura della memoria RAM che sarà sul bus ovviamente e quindi ha bisogno di circuiti che siano in grado di interfacciarsi con la memoria questi sono la circuiteria interna principale dell'unità di controllo ok andiamo avanti numero 5 si scrive ovviamente con le tende per gerarchie di memoria in un sistema di elaborazione questo l'abbiamo appena fatto e quali sono le caratteristiche fondamentali che differenziano i vari tipi di memorie questo magari possiamo dire qualche parola in più quindi torniamo alla pagina in cui abbiamo spiegato le gerarchie di memorie ok le caratteristiche principali alcune le abbiamo citate che sono la velocità il costo e la capienza la capacità altre caratteristiche possono essere ad esempio quelle della volatilità la volatilità sono appunto memorie che vengono cancellate che perdono i loro dati quando manca l'alimentazione elettrica tutte le memorie interne sono volatili ok mentre invece le memorie di massa non sono volatili quindi si volatile le memorie interne cache registri eccetera spengo la corrente e perdo tutte non è volatile invece le memorie di massa quindi dischi sd memorie flash eccetera hard disk interni o esterni quelli non sono volatili perché salvo i dati e quei dati rimangono anche se li stacolo al computer o li spengo mentre invece le memorie interne sono tutte di tipo volatile quindi è ovvio che anche se noi avessimo soldi infiniti non possiamo fare tutto con memoria RAM o con memoria cache perché se mancasse la corrente o spegnessimo il consultore perderemo tutto per sempre quindi della memoria di massa ne ho bisogno comunque non solo per ragioni di costo ma anche per ragioni di memorizzazione dei dati di persistenza dei dati stessi quindi questo è un fattore in più che nella domanda precedente non saltava fuori non è necessario discutere però qua mi chiede quali sono le qualità che le distinguono le principali sono essenzialmente queste quattro poi chiaramente ci sono le tecnologie con cui sono costruite ma questo ci vogliamo più una proprietà interna che non un motivo di scelta ok poi quattro spiegare brevemente come si intende per la giochia di memoria e quali sono i vantaggi che derivano da tale struttura è la stessa domanda tre per quale motivo la velocità di clock nel CPU è andata sempre crescendo negli ultimi 40 anni perché negli ultimi anni questa crescita si è fortemente ridotta questa allora la prima metà è facile perché la velocità di clock è sempre aumentata via via negli anni addirittura c'era la famosa legge di Moore che dice che ogni 18 anni la capacità di elaborazione la capacità di calcolo del sistema di elaborazione raddoppia infatti siamo da 40 anni in una curva esponenziale in termini di capacità di elaborazione non è una legge fisica ma è semplicemente un'osservazione empirica che deriva dalla velocità con cui vengono prodotte nuove tecnologie però per rimanere alla domanda la velocità di clock è sempre andata aumentando per avere prestazioni maggiori per costruire sistemi di elaborazione a prestazioni maggiori se io ho una CPU che va a 2 GHz piuttosto che una CPU che va a 1 GHz questa è la più veloce non dico il doppio perché dipende dall'operazione che deve fare alcune operazioni magari non coinvolgo direttamente la CPU quindi non vengono accelerate da un eventuale clock più veloce però tendenzialmente vado più veloce è ovvio che per poter andare più veloce ho bisogno di una tecnologia elettronica più veloce che quindi avere dei registri avere delle unità metodologiche che mi diano risultato in mezzo nanosecondo se voglio andare a 2 GHz e invece un nanosecondo se posso andare a 1 GHz quindi dovrò essere capace a costruire dei circuiti che avranno dei tempi di risposta più veloci più brevi a questo punto potrò mandare il sistema ad un clock più veloce sarebbe inutile prendere un circuito che mi rispondi i cui registri mi rispondono dopo 10 nanosecondi 10 nanosecondi vuol dire ragionare in frequenza 0,1 GHz allora se quel sistema lì lo faccio andare a 1 GHz non serve a niente perché io posso anche mandare un clock e quando dico al registro scrivi il dato ma lui non è in grado di rispondere di eseguire quell'operazione all'interno del ciclo di clock perché lui non è abbastanza veloce quindi è vero che io posso dire ah che bello faccio andare il clock più veloce così ho un computer che va più veloce però grazie al miglioramento tecnologico tecnologico fatto dal transistor porte logiche e le memorie che sono diventate più veloci che sono diventate esponenzialmente più veloci anche qui negli anni negli ultimi anni e questo è un trend che ci è sempre stato io ricordo i primi personal computer negli anni 86 88 quando sono arrivati i personal computer sul mercato avevano un clock che era 4 megahertz adesso abbiamo anche un computer di cui il clock è 4 gigahertz quindi siamo mille volte più veloci come velocità di clock negli ultimi 25 anni circa della storia parlando di personal computer se uno andasse ancora più indietro i primi processori non lavoravano a megahertz di frequenza ma lavoravano a kilohertz di frequenza 10 kilohertz 50 kilohertz eccetera e quindi era un altro fattore mille diciamo così di decade in decade ultimamente questo trend invece è un po' cambiato 3-4 anni fa compravvi un computer e aveva il clock a 3-4 gigahertz lo compri ancora adesso hanno comunque la stessa velocità di clock cioè non troviamo dei computer che vanno a 10 gigahertz a 8 gigahertz la frequenza di clock dei computer praticamente negli ultimi anni è rimasta abbastanza costante basta guardare i volantini del supermercato e ve ne rendete conto questo perché è perché si scontano poi dei limiti tecnologici essenzialmente quindi al fine non si riesce a costruire dei circuiti digitali dei circuiti integrati più veloci ho un problema poi che all'aumentare la frequenza di clock la dispersione elettromagnetica aumenta quindi questi segnali tendono a produrre più diciamo così disturbi elettromagnetici che non segnali cioè questo segnale è talmente veloce che non ci sta più sul filo di rame tende a trasformarsi in un'onda elettromagnetica quindi per problemi fisici e c'è anche problemi di dimensione cioè se io ho un decimo di nanosecondo e tenete conto che un nanosecondo è lungo così la cosa vuol dire la lunghezza di nanosecondo è la lunghezza che la luce percorre in un nanosecondo quindi se io vado a un gigahertz all'interno di un ciclo di clock un segnale può passare semplicemente da qui a qui 30 centimetri circa in un secondo se io vado già a 4 gigahertz io avrei un ciclo di clock la luce dunque sono 30 diviso 4 sono 7-8 centimetri quindi vuol dire che se io ho dei sistemi che sono più grandi di questa dimensione fisica devo tenere conto poi degli effetti della velocità della luce che mi vanno a complicare il tutto e quindi andassi a 10 gigahertz la dimensione è 3 centimetri nessun sistema di elaborazione che è più piccolo di 3 centimetri neanche uno smartphone e quindi non ce la farebbe comunque la luce arrivare da parte anche solo arrivare da parte a parte del circuito lasciamo perdere il tempo di eseguire l'operazione anche solo semplicemente perché quello noi abbiamo un po' l'idea intuitiva che quando metto un segnale su un filo dall'altra parte arriva istantaneamente quel valore 0 volte 5 volte arriva istantaneamente no arriva con la velocità neanche della luce nel vuoto ma della luce degli elettroni nel rame quindi ci sono tutta una serie di motivi quindi fisici che fanno sì che diventa sempre più difficile ancora lavorare diciamo così semplicemente aumentando la frequenza di clock quindi negli ultimi anni per motivi fisici e tecnologici la frequenza di clock non è aumentata tra le occasioni particolari oltre ai 3-4 gigahertz che comunque è un numero di due rispetto provate a contare fino a 3 miliardi poi me lo dite in un secondo allora cosa è successo le prestazioni l'aumento delle prestazioni si è ottenuto con metti diversi ad esempio i famosi processori multicore in cui dentro lo stesso chip dentro lo stesso microprocessore non ne metto uno sono riuscito comunque la tecnologia è andata avanti ho una miniaturizzazione maggiore e quindi all'interno dello stesso chip ci metto più core cioè più copie dello stesso processore e quindi come se ne avessi due come se ne avessi quattro che possono andare avanti in parallelo quindi vanno tutti alla stessa frequenza ma avendono di più potrò raddoppiare per raddoppiare il numero di operazioni da fare non raddoppio la frequenza di clock ma raddoppio il numero di processori che metto dentro il calcolatore questo è un esempio di come si è riuscita ad aumentare la potenza di calcolo anche senza aumentare la frequenza di clock cioè metto più più cpu dentro praticamente ho una cpu unica con tante cpu dentro temperatura di sistema di dissipazione anche sì 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 come suggerisce Antonino è chiaro che la la frequenza di aumentare la frequenza di clock aumenta il calore prodotto è anche vero che avere più core aumenta anche il calore prodotto da ciascuno di essi quindi qua ho detto quando metto motivi fisici chiaramente ci sono oltre che motivi tecnologiche prestazionali ci sono anche quelli termici termici che comunque non scompaiono nel passare a sistemi di questo genere perché se io più core ne faccio andare avanti 4 contemporaneamente sto consumando 4 volte tanto energia elettrica e questa energia elettrica dal punto di vista termodinamico si trasforma tutta in calore perché non c'è nessun'altra forma di energia in cui si può trasportare quindi all'aumentare le prestazioni anche per mezzi non puramente clock ma ad esempio aumento dei core aumenta comunque la dissipazione termica che poi l'ha portato via questo calore ovviamente in qualche modo per evitare che le temperature salgano troppo però sì sicuramente anche qua come tutti i sistemi tecnologici ingegneristici bisogna trovare il giusto bilanciamento tra aumento questo aumento quest'altro aumento quest'altro ogni operazione che faccio ha delle conseguenze progettuali che mi obbligano a fare marcia avanti sull'area e allora farò marcia indietro sulla frequenza di clock per mantenere magari un livello di temperatura accettabile o viceversa come si dice è una bella grana sviluppare o progettare cose a questo livello di stato dell'arte in certo senso ok vediamo se ci rimangono due domande da vedere se non sbaglio vediamo un attimo la domanda 2 qual è la differenza tra un bus seriale e un bus parallelo direi che non abbiamo citato l'argomento durante le lezioni in realtà la risposta è molto semplice un bus seriale è un bus fatto da un filo solo seriale uguale un filo come ad esempio il bus usb se voi prendete un qualunque cavo usb e provate a tagliarlo dentro vedete che lui dentro ha 4 fili questi 4 fili in realtà sono uno la tensione l'altro la massa cioè 2 fili di alimentazione un filo per il segnale che va e l'altro filo per il segnale che torna quindi tutti i dati quando voi la webcam in questo momento mi sta riprendendo i pixel della mia faccia eccetera che stanno viaggiando viaggiano su un bus usb e viaggiano tutti belli in fila indiana perché c'è un filo solo per i dati che vanno dalla webcam verso il computer e quindi i bit sono serializzati un bus parallelo come dice il nome è un bus che scusate il disegno fatto in fretta è un bus che è composto da più fili che viaggiano in parallelo questa è la struttura dei bus interni ad esempio sono fatti così all'interno del calcolatore perché un bus parallelo lo devo considerare ma perché avendo più fili in parallelo nel tempo che ci mette un bus seriale a trasmettere un bit un bus parallelo me ne trasmette magari 8 e quindi in teoria è più veloce è più veloce ma è più costoso ovviamente perché anziché un filo ne metto 8 è più ingombrante quindi mi occupa spazio ad esempio sulla scheda madre io non potrei avere un filo usb come quello del caricatore del telefono fine se dentro avesse 12 fili anziché 4 qui c'è anche il problema di gombro c'è anche il problema di costo e c'è un problema poi di anche di interferenza elettromagnetica per cui se ho molti fili che viaggiano uno vicino all'altro ciascuno dei quali ha un segnale onda quadra fatto di zeri di uni questi segnali si disturbano l'un l'altro e quindi questo disturbo detto cross talk quindi chiacchierata reciproca mette un limite superiore alla frequenza massima cui posso mandare dei dati per cui a un certo punto c'è stata una certa decisione di spostarsi più possibile su basse seriali su cui è vero che su un singolo trasferimento trasferisco un bit solo mentre qui trasferisco molti ma riesco sul basse seriale ad andare a frequenze molto maggiori anche su basse meno protetti su un filo che viaggio metto in borsa eccetera mentre invece sul parallelo una volta ad esempio le stampanti viaggiavano su un basse parallelo perché si voleva che si trasferisero più dati però lavoravano con frequenze molto più basse adesso i basse paralleli sono rimasti solamente all'interno quasi sempre quasi esclusivamente all'interno del calcolatore sì e alcuni ma anche i connettori video connettore VGA aveva 3-4 connettori uno per ogni per ogni componente colore adesso l'HDMI invece anche lì è un basse seriale fatto di due fili solamente e ovviamente con una schermatura con il protocollo di comunicazione opportuno una schermatura opportuna del cavo infatti l'Academia è molto più spesso perché non per i fili che ha dentro ma per la schermatura che ha intorno riesci ad andare a frequenze molto più elevate quindi avere i trasferimenti in termini di bit al secondo molto più elevati comunque questo è un argomento diciamo che pescato una domanda del passato che oggi non capiterebbe più perché non abbiamo inserita come argomento trattato la domanda 1 descrive la funzionalità della memoria RAM le sue caratteristiche le principali differenze rispetto a un hard disk allo stato solido e di nuovo siamo all'interno della differenza tra le memorie dove ovviamente quello che possiamo confrontare sono quei 4 parametri che dicevamo prima quindi la velocità la memoria RAM è sicuramente più veloce la capienza l'SSD è sicuramente più capiente io di RAM su un calcolatore magari c'ho 6 8 16 gigabyte su un disco SSD ne avrò 500 gigabyte 1000 2000 cioè 1 tera 2 tera le caratteristiche sono molto simili in realtà nel senso che sono entrambi fatti su circuiti integrati poi tecnologicamente sono molto diverse ma sempre con quei tecnologie elettroniche non abbiamo come l'hard disk che è magari un disco rotante che memorizza in modo magnetico i dati ma l'altra differenza quindi abbiamo detto costo costo è maggiore per la memoria RAM capienza è maggiore per la SSD velocità è maggiore per la memoria RAM e volatilità l'SSD non è volatile mentre la memoria RAM invece è volatile quindi perde i dati quindi è un altro modo diciamo così di ridire le stesse cose che abbiamo già detto in una domanda sulla girarchia di memoria ok quindi qua abbiamo fatto una carrellata abbastanza veloce su un ventaglio di domande come vedete alcune sono di tipo più teorico quindi aver capito il concetto altre alcune sono di tipo più diciamo di calcolistico sulla dimensione della memoria e sulla dimensione dei bus ma alla fine grosso modo diciamo così si gira intorno a questi concetti principali io a questo punto farei una pausa per tutti così poi riprendiamo tra 10-15 minuti vedendo invece l'altro argomento che è l'argomento delle domande di teoria di Python quindi ci facciamo un piccolo intervallo io lascio la connessione aperta ovviamente però interrompo la registrazione la riprenderemo dopo e quindi diciamo così 13.02 possiamo riprendere alle 13.15 precise così abbiamo un'ora e un quarto per la parte successiva ok quindi lo stacco la registrazione un'ora e un'ora